Sono un'insegnante di scuola primaria, in ruolo da due anni, lavoro dal 2004 e verrò vergognosamente licenziata da questo governo entro l'anno prossimo. La rabbia dei docenti con diploma magistrale è tanta all'indomani della decisione del governo che con un emendamento di fatto li licenzia anche quelli in ruolo da tre anni. Con l'emendamento di ieri si avranno 7.000 licenziamenti tra le insegnanti in tutta Italia, insegnanti che hanno già acquisito il ruolo e affrontato un anno di prova che è legalmente valido e per il quale faremo ulteriori ricorsi. Era quello che il MIURRA scongiurava ma evidentemente ha aperto le porte a una nuova stagione di ricorsi proprio per questo e ci saranno solo nel Veneto 900 licenziamenti di questo tipo e 3.000 declassamenti nella graduatoria per le supplenze annuali. Dopo mesi di battaglia le insegnanti non hanno intenzione di arrendersi di fronte a questo emendamento e l'appello al governo è chiaro. Le insegnanti sono stanche, le insegnanti hanno avuto un sacco di promesse da parte di tutti i politici nell'ultimo periodo, abbiamo l'appoggio del governatore Zaia, abbiamo anche l'appoggio dell'assessore Donazzana, però a noi non basta. Noi vogliamo un sub-emendamento che venga approvato nell'immediato in questi giorni e che preveda assolutamente la salvaguardia dei ruoli con riserva. Nel frattempo noi rientreremo nelle nostre classi a settembre, attenderemo la sentenza di merito che ovviamente sarà negativa e lo Stato ci tutela nel farci finire l'anno scolastico, quindi trasformerà i contratti da tempo indeterminato a contratti a tempo determinato al 30 giugno, privandoci ovviamente di tutto quello che è il nostro lavoro e la nostra vita. È un governo che licenzierà un sacco di persone e noi insegnanti ce ne ricorderemo alle prossime elezioni regionali e amministrative ovviamente quando saranno.